Allora, saliamoci un attimo a tavolo, io e te, coglione di merda, ufficiale, casere, sala juve, Benazia avvia, la mia reazione senza censure, 855 commenti, 103 dislike, adesso vieni, ti presenti qua sotto il video, dici, scusa, l'ho pensato per un istante, ho pensato per un istante che Martin Merderes possa essere minimamente all'altezza di Benazia, e ripetimi che Benazia se ne è voluto andare lui e non che l'hanno buttato fuori gli altri, dimmelo, tu vieni qui e dimmelo, vieni qua e dimmelo, leggi il post di Benazia, quando ha detto addio, lo leggi bene, vieni qua e mi dici, non è colpa della juve, ma è colpa di Benazia che ha voluto abbandonare la squadra, vieni qua e hai il coraggio di dirmelo, se c'hai il coraggio vieni qua e dirmelo, perché oggi ragazzi con Martin Merderes e Rugani abbiamo preso non uno, non due, ma tre gol, da chi? Dove? In casa? Dal Parma, il Parma è la classica squadra che in trasferta va a fare i golpacci solo quando passa in vantaggio e segna soltanto di contropiede con lanci lunghi, non da anticalcio, perché in serie la fanno un po' come cazzo gli pare, non è da dire che il Parma gioca di merda, no, perché oggi tu hai giocato regalando i gol al tuo avversario, cioè che quando la Juventus storicamente negli ultimi otto anni prende più di due gol in casa, vuol dire che non è mai il problema se non ne facciamo noi più di tre, perché c'è stata un'occasione con Spinazzola che porca buttana c'eravamo due soli dall'altra parte, la passi meglio facciamo il 4-2, no, mi vien da dire, però non mi sento di dire questo, perché noi abbiamo fatto tre gol oggi e fare tre gol per noi era già tanto, perché la Juventus tre gol quest'anno ne avrà fatti una, due volte, quanti con lo Young Boys, con chi abbiamo fatto più di tre gol, quante volte sarà capitato? Poche, e poi le abbiamo fatti e abbiamo preso gol tre volte, questa è la nostra difesa, se a inizio anno mi avessero detto, ti va bene giocare con Bonucci, Chiellini, Casser e Rugani, t'avrei sputato in un occhio, avrei detto no, siamo tornati indietro, perché tu che ragioni col culo e mi descrivi Benazia come un difensore soltanto ricordato per quell'episodio, tu meriti, fatti bendare gli occhi, fatti bendare gli occhi, è stato preferito quel giocatore che alla fine, alla fine ci sta che abbia anche deciso lui perché non lo facevamo giocare, al posto di Bonucci arrivato dal nulla, si è ripreso il posto e abbiamo mandato fuori uno di quelli che a livello difensivo era quasi a livello di poter essere titolare con Chiellini al 100%, l'abbiamo mandato via e ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, abbiamo preso tre gol dal Parma, il Parma è la squadra che se vince in trasferto, se prende punti è perché riesce a passare in vantaggio, ci siamo fatti rimontare tre volte, che poi non è mica solo colpa della difesa ragazzi, che dira, ma chi è che si è perso Barilla arrivare a centro capo come un treno di testa da solo? Ma ragazzi stiamo scherzando e sentivo pardo su Dazon che anche lì in applicazione che l'haga ogni 3x2 anche avendoci le migliori connessioni del mondo, mi vai a dire, c'è di male che non si è da 750 minuti, ma chi cazzo se ne fregava col Parma? E in questo momento, in questo piccolo momento di crisi, perché lo puoi dire crisi, quando la Juventus non riesce a vincere la partita dove perde, è una piccola crisi, perché la Juventus è sempre stata la squadra dove tu dicevi abbiamo perso, dai, che peccato, quella dopo saranno cazzi per gli avversari, ma guarda un po' oggi non è andata così, perché quante partite tu Juventino ti accontentavi, ti prendevi zitto zitto l'1-0, o il 2-1 e al 94 c'era un cancio d'angolo per gli avversari, stavi sempre lì a sudare, a sudare e mai che ci andasse male, mai, perché in quegli episodi lì c'è sempre andata bene, o parava il portiere, o sbagliavano loro, o tiravano in curva, la punizione di Milinkovic o tante altre cose, tantissimi altri episodi, tante partite vinte 1-0 dove c'è andata di culo che all'ultimo non ce l'hanno appizzato, Juve-Inter, l'occasione che ha avuto l'Inter sul finale, ci sono state tantissime partite, io mi ricordo quando è che andava sempre male quell'episodio, o con Conte, che andava male il primo anno, oppure gli anni prima, quando tu avevi più o meno questa difesa, e più o meno a centrocampo non avevi dei nomi importanti, eppure oggi tu, pensando anche di dire, ma rimetto di bala, si scalda, no invece serviva mettere subito qualcuno, l'hai sempre fatto quel cambio a centrocampo di dire, oh, metto, che ne so, a Cian, Bentancur al posto di uno a caso, tra Pjanic, che dire, ma tu dici, che onestamente non mi sento mai di dire che uno è meglio dell'altro, perché alla fine, in quanto occasioni, che dirà, quantomeno la porta più o meno te l'ha beccata, con un palo e con un tiro piazzato dove Sepe è volato, mentre per gli altri, in Pjanic c'è i soliti lavori, ma anche lì dei tiri che puoi buttare dentro, eh, da 20 metri, non sappiamo centrare neanche la porta con quelli, c'ha avuto che dire per Pjanic, poi per il resto un tiro deviato il primo gol, l'altro un rimpallo dove Ronaldo, da due metri dalla porta, la spizza alta, poi arriva Rugani da dietro, e poi l'altro è che è stata un'azione di Mandzukic, che, guarda un po', quindi si poteva mai di nulla, fino a quest'anno è rientrato, non mi sento neanche di dargli la colpa, però piano piano siamo arretrati, mi sono detto, ma abbiamo cambiato le porte? Siamo noi quegli a essere dalla parte destra dello schermo? Non so, perché Mandzukic improvvisamente recupera il pallone, si va a suicidare, perché si va a suicidare quando tu pratichi autolesionismo, non pratichi calcio, tu vai all'angolino, che in realtà è quello sbagliato, perché non sei in area tua, sei in area degli altri, mi metti un pallone vergognoso in mezzo all'area di rigore, te lo rubano, inglese che ha veramente in questa partita distrutto Rugani, Rugani riesce a fare quello che gli pare, perché lui oggi è Harry Kane, perché oggi non è inglese, è Harry Kane, perché noi lo abbiamo fatto diventare Harry Kane, e nessuno copre Gervinio, che è diventato improvvisamente un mostro, e io questa partita, fino a quando non era finita, non mi fidavo, perché il Parma so quanto può essere ostico in trasferta, so a quante squadre ha dato noia, e tanto, e tanto doveva andare così, perché giustamente, tu che hai detto che tanto, per quanti minuti aveva fatto Benazia rispetto a Caceres, poteva andare bene lo stesso, perché tu non l'avevi previsto, che avendo un difensore importante, titolare oltre i 33 anni, non si potesse fare male, no, mi hai dato la colpa a me, mi hai detto che sono un guffe, e quindi è diventata automaticamente colpa mia, adesso però motivamelo un po', ti va bene adesso giocare con Caceres? Lo volevi, volevi un piatto rotto? No, no, quello se vuoi lo faccio anche off camera, non ho bisogno di mostrarlo, per fare magari più il fenomeno, però questo è quello che è stato, e meno male che abbiamo sempre avuto Chiellini, che adesso tu vai con i più 9 punti, non sai come, pareggiando in questo momento un pochino così, lo vai a coprire alle coperte, Chiellini, un'altra partita, poi gli entri, perché qui anche col Frosinone si prende gol da Ciano e Pinamonti, bella, bella un cazzo. Ciao!